Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Un caldo quasi estivo sta avvolgendo il nostro territorio in queste ore. Si tratta comunque di una breve parentesi. Da domani infatti i correnti più freschi occidentali di origine atlantica sostituiranno gradualmente quelle calde subtropicali a partire dai settori tirrenici. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi sereno poco nuvoloso al mattino. Aumento della nuvolosità medio alta dal pomeriggio specie sul Cosentino. Temperatura in ulteriore lieve aumento. Domani tra la notte e il primo mattino possibili deboli piovaschi sulle aree tirreniche specie del Cosentino. Nel corso della giornata i cieli si presenteranno parzialmente nuvolosi su gran parte della regione senza fenomeni di rilievo. Ampie schiarite si faranno spazio su Vibonese e Regino. La temperatura sarà in diminuzione. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Oggi venti moderati sia sul Tirreno che sullo Ionio. Vili Beccio in rotazione ad ovest sul Tirreno. Meridionali sullo Ionio centro-settentrionale. Dari Beccio sul settore Regino. I mari risulteranno mossi. Poco mosso solo il Golfo di Corigliano. Domani venti moderati ovunque da Maestrale. I mari risulteranno molto mosso il Tirreno. Mosso lo Ionio. Localmente poco mosso sotto costa il settore Crotone e Serregino. Riparati entrambi rispettivamente dalla Sila e dalla Spramonte. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, per oggi è tutto. Grazie per la cortesa attenzione. Appuntamento a domani.